che potete scaricare dal sito novara5stelle.it c'è una sezione programma, andate dentro il programma oltre ad essere consultabile è anche commentabile per cui andate dentro, aggiungete quello che vi sembra che manchi criticatelo, fateci complimenti, come volete noi siamo a disposizione, il sito non è moderato e di conseguenza attenzione a quello che scrivete perché poi se no ci tocca cancellarvi i commenti brutalmente ciao bimba oggi siamo qua a fare una biciclettata proprio per rilassarci perché siamo veramente sconvolti dal tour elettorale e dobbiamo riprenderci un attimino quindi la biciclettata è senza bandiere non andiamo in giro a svetolare bandiere domani è la giornata per la bicicletta la giornata mondiale è la bicicletta noi siamo ciclisti, ci muoviamo per Novara quando possiamo in bici e di conseguenza oggi ci troviamo non so quanti saremo, adesso torniamo in piazza Martire e vedremo quanti siamo e poi bene, tanti sorrisi per tutti più bici più baci e un saluto a tutti quanti